Ehi bella gente, il Doc è qui presente con Aquaman, che mi vuole imitare, mi vuole imitare. Comunque, la Roma? Com'è la Roma? Senti, senti il Doc? Oggi, oggi a pranzo cosa dice? Senti, senti il Doc cosa dice? Senti il Doc? Senti, attenzione alla Cremonesa, la Cremonesa gioca, attenzione, oggi mi sa che faccio una puntata del bollettone del Doc, comunque ripeto. Senti, attenzione alla Cremonesa, ci vede lungo il Doc, sa il futuro, Murigno, tu sei un pagliaccio, tu sei come Allegri, due pagliacci, bla bla bla, rosso, zitta, casa, e lo fai apposta, perché tanto sai che l'anno prossimo te ne vai e ti lamenterai, che comunque, con una rosa come la Roma, la devi battere la Cremonese, e giù il cappello, giù il cappello a Ballardini. Che allenatore Ballardini, che allenatore, magari lo avessi io. Comunque dopo c'è la Juve, comunque il romanista, hai visto il Doc a mezzogiorno? C'aveva visto lungo, ha fatto la puntata, il live a 10.50, e il romanista dirà, eh sì, adesso non fare il fenomeno. Tu che punti sulla Cremonese, non ci credo neanche se lo vedo. Au, è che me sta, è perculà. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta. Oh la la, a 10.50. A 10.50. Un bacio dal Doc. Ciao, ciao. Spiazze, spiazze, ciao.